L'integrità interiore è conoscere la ragione che sta dietro ogni tua emozione. Shri Amma Bhagavan Dire la verità e rispettare se stessi Domanda Caro Bhagavan, tu dici, quando iniziate a dire la verità, iniziate a rispettare voi stessi. Ma io non ho il coraggio di dire la verità. Cosa dovrei fare, Bhagavan? Shri Bhagavan La più potente verità spirituale è la verità. Ma non stiamo parlando di verità esteriore. Voi dovete sopravvivere in questo mondo non veritiero. Perciò non potete permettervi la verità esteriore. Ci stiamo riferendo alla verità interiore, che significa vedere quello che sta accadendo dentro di voi. Questo è essere sinceri con se stessi. Essere sinceri con se stessi è la cosa più importante. Dovete davvero sapere chi siete. Ciò che è fuori non è importante. Il vedere quello che c'è è quello che è davvero importante. Se potete fare questo, tutti gli insegnamenti della Oneness sarebbero i vostri insegnamenti. Li scoprireste da soli. Tutte le cose di cui parliamo, come il risveglio, la trasformazione, eccetera, vi arriverebbero automaticamente. Se cercate di diventare risvegliati o trasformati, non funzionerà. Ciò che funziona è l'integrità interiore. È la verità più potente. Senza l'integrità interiore non ci può essere nessuna crescita. Non ci può essere nessuna crescita, non ci può essere nessuna crescita.